Qualche giorno fa sto parlando con un'imprenditrice davvero tosta, una di quelle che si è fatta da sola con un bagaglio di esperienza davvero importante, una che ne ha passate davvero tante e ad un certo punto le chiedo come sei riuscita a trovare la forza di risalire dopo aver toccato il fondo? Dove hai trovato la sicurezza e la determinazione per superare delle sfide così difficili? E la sua risposta è stata inaspettata. Mi dice cara le sfide mi sono abituata a mangiarle a colazione ormai. Mi sveglio la mattina e non vedo l'ora di sapere quali problemi dovrò affrontare nelle prossime 24 ore. Credo sia questo l'animo dell'imprenditore, non trovi? Io la guardo con ammirazione e penso tra me, sì beh sembra facile. Nel caso non si fosse ancora capito io personalmente non sono una grande amante delle sfide. Voglio dire se c'è una sfida mi rimbocco le mani che provo a risolverla dopo un piantino per quelle più inaspettate che ci sta sempre. Ma se il problema non c'è diciamo che non aspetto con ansia che arrivi. E però una cosa nei miei pochi anni di esperienza lavorativa l'ho imparata. Quando gestisci il tuo lavoro le sfide non finiscono mai. Che ti piaccia oppure no. Questioni logistiche si succedono a questioni burocratiche che si succedono a questioni umane chiamiamole a ritmo incessante. Poi naturalmente le sfide variano di natura dimensione intensità anche se spesso e volentieri amano concentrarsi tutte insieme nello stesso momento ma questa è un'altra storia. Ci dedicheremo un altro ceci weekly. Resta il fatto che non mancano mai all'appello e con il tempo se smetti di resistere diventa un pochino più facile affrontarle. Almeno te le aspetti e invece che pensare che palle a rieccoci l'idea è dirsi ok un'altra sfida. Vediamo se posso affrontarla mettendo in pratica le lezioni che ho imparato dall'ultima dopo il nostro piantino. Per allenarmi a questo cambio di prospettiva però mi sono dovuta prima aprire all'idea che queste sfide fossero davvero importanti e così ho cercato delle reali motivazioni che giustificassero l'importanza di questi ostacoli nella mia vita e ne ho trovati almeno tre. Prima di tuffarci in queste tre ragioni fondamentali per cui le sfide non dovrebbero mancare nelle nostre vite ti invito però ad iscriverti al canale youtube se stai guardando questo video da youtube soprattutto attivando il simbolo della campanellina per ricevere le notifiche altrimenti non saprai mai quando esce un nuovo video se invece stai guardando il video dal blog ti invito come sempre ad iscriverti gratuitamente alle newsletter per sapere via mail ogni volta che esce un nuovo ceci weekly. Ok siamo pronti per scoprire le tre ragioni per cui la nostra vita dovrebbe essere un percorso ad ostacoli. La prima le sfide possono renderci più sicuri magari non subito ma quando le affrontiamo anche se un po incerti sul da farsi all'inizio e poi ci guardiamo indietro non possiamo non farlo senza un pizzico in più di sicurezza e noi stessi anche magari se le cose non sono andate esattamente come ci aspettavamo come speravamo comunque abbiamo dimostrato a noi stessi di poter affrontare l'ostacolo ci abbiamo provato. Due le sfide possono renderci più creativi quando resistiamo alla tentazione di arrenderci non ci resta che diventare più creativi a questo proposito c'è la storia di uno speaker che chiede alla platea di alzare le mani il più alto possibile più in alto urla e tutti provano ad alzare la mano di un millimetro in più ancora più in alto lui continua e tutti provano ad allungarsi ancora un po' qualcuno riesce ad andare ancora più in alto continua e all'improvviso qualcuno comincia effettivamente ad alzarsi sulle sedie o a saltare su e giù come un pazzo. In altre parole la platea comincia a tirare fuori la creatività per arrivare più in alto di quanto inizialmente non sembrasse possibile. Quando li affrontiamo dalla giusta prospettiva gli ostacoli possono aiutarci ad allenare il nostro muscolo della creatività invitandoci a chiedere a noi stessi cos'altro posso fare che non ho provato prima. Tre le sfide ci mantengono umili le sfide ci ricordano che siamo umani che non sappiamo tutto che facciamo errori e che nulla è sotto il nostro diretto controllo ad eccezione del come scegliamo di rispondere all'inaspettato e a volte anche indesiderato e quando rispondiamo ad una sfida con umiltà senza coinvolgere il nostro ego che è lì sempre pronto a fare da protagonista le togliamo il potere di farci perdere l'equilibrio di destabilizzarci perché pensiamo che non è giusto non doveva capitare a noi non doveva andare così e proprio così riusciamo poi a trovare una soluzione molto più velocemente. Insomma sfide e problemi sono una parte importante della nostra vita il nostro problema più grande è quello di sperare in una vita senza problemi sì magari all'inizio sarebbe anche piacevole ma poi diventerebbe di una noia mortale non trovi mentre noi diventiamo sempre più rammolliti e ci spezziamo al primo soffio di vento e allora rimbocchiamoci le maniche e invitiamo la prossima sfida ad entrare noi non abbiamo paura se accetti la sfida condividi qui sotto nei commenti la frase io non ho paura facciamo pentire a queste sfide di aver bussato alla nostra porta ti è piaciuto questo video allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce